Questa è una macchina di quelle che parteciperà al film, un parco chiuso delle Audi. Andiamo a vedere da vicino, Pinto, questi sono i team che partecipano, Martini Racing, la Golf. Buongiorno, sono un canale YouTube, sono un canale YouTube. Vuoi raccontare qualcosa dal tuo team? Io sono con i meccanici e sono l'assistenza da corsa delle Audi e anche delle altre repliche di quelle originali. Per il FiltWing Martini Corsi, hai corso negli anni 80? Ero troppo piccolo. E da dove arrivate? Da Roma. Da Roma. Con la d'Alessandro che è la società che fornisce le auto al noleggio e riesce a recuperare questi mezzi. Grazie, colpimenti piloti che... Piloti, abbiamo... Daniele! Abbiamo per l'occasione un pilota vero. Daniele! C'è un canale YouTube se volete parlare e raccontarci un po' di dove siete, che piloti... Allora, ok, buongiorno, mi chiamo Filippetti Daniele, lei è la nostra autopilota, anche lei pilota in realtà di Dakar, che si chiama... Rally Dakar, piacere. Siamo qua, stiamo facendo delle scene cinematografiche per il FiltWing, con queste fantastiche Audi Gruppo B, e cerchiamo di fare le cose nel migliore dei modi possibili. Da Roma mi hanno detto che venite. Allora, io in realtà vengo da Perugia e competo nel campionato velocità in montagna, a bordo di una licea CN2, un prototipo. Sì. E niente, tra una gara e l'altra ci divertiamo anche così. Praticamente giri film. Tra una gara e un'altra ti hanno scritturato per fare un film. Praticamente sì. Ok. Ci hanno, ci hanno. Ci hanno, vi hanno. Lei anche corre... Io corro... Io ho fatto la Dakar e corro nel campionato di rally cross country mondiale. Ah. E... E... Sono qui. Siete qui. Si trovate bene, oggi è il primo giorno di riprese, mi sembra, o siete? Perché già... No. Già siamo qua dal 20... Dal 15 di maggio. Dal 15 di maggio, no? Perché sul sito... Non qua, siamo girate delle scena a Torino, Torino Centro, circuito del Balocco, sopra il Parco Nazionale di Granandria. Sì, sì. Come ti trovi? Bene. Ti trovi bene. Come sono le strade qua? Come sono? Una figata, eh? È bella la prova che devi fare. È tutto migliore, no? Hai provato, hai avuto problemi nella macchina o qualcosa, messo a punto? Allora, principalmente ora abbiamo un assetto, purtroppo, da pista. Da pista. Però... E qui com'è la storia? Non ti trovi. Abbiamo girato anche delle scene su terra, alla fine qui che loro interessa è l'effetto scenico, tanto che la velocità in z per z. Ma spiegaci, tu vai con una macchina, poi di fronte o dietro c'è un'altra macchina come sulle telecamere, com'è che funziona? Allora, a volte abbiamo delle macchine da presa in vari punti che riprendono un passaggio esterno e abbiamo anche delle macchine da presa all'interno che riprendono i passaggi interni. Come il camera car, quelle cose. Esatto, esatto, esatto. Per fare l'effetto degli anni Ottanta? Useranno dei filtri i macchinisti e gli addetti alle macchine da presa. Ok. Ognuno ha i suoi compiti qua, c'è chi guida, c'è chi sistema le macchine. E com'è che funziona? Ti danno un pezzo di strada da fare, entri e la fai due o tre volte, avanti e indietro, com'è? Sì, abbiamo delle location stabilite, in cui c'è il nostro stand coordinator che ci dice quello che dobbiamo fare e viene fatto fino a che non viene come il regista vuole. E' come il regista vuole, quindi questo è il nostro compito, guidare le macchine. Esatto, complimenti, adesso ti lascio andare, ti ringrazio. A te, grazie. Ci vediamo alla prossima e ci vediamo il film. Sapremo che sei tu che hai guidato quest'auto. Grazie, ciao. Questa è la buona idea. Anni Ottanta. Che hanno prestato per il film. E non è l'unico. Ma è un canale piccolo, dvg garage. Dvg garage. Dvg garage, piccolino. Dvg garage. Dvg garage. Piccolo canale però, ti ringrazio per averci prestato il tempo. Ciao, grazie. A voi. Facciamo due riprese. E via. Adesso sta la golf. Tutto, ah, questa è la delta. Lancia Martini. Non so se si può passare. Senza disturbare troppo. Questa è un'altra macchina che vedrete nel film. Lancia Martini. 0,37. Sarà un ex ufficiale. Stanno montando sulle telecamere. No, non puoi stare indietro. No, no, ma non ti fai odi. No, tranquilli. Non possiamo fare. Grazie. Lo chiudiamo. Niente, dobbiamo chiudere. Sade. Sade. Non si può fare filmati. Ci vediamo quello che fanno questi che non hanno problemi. Non si può fare filmati. Non si può fare filmati. Vediamo se riusciamo a andare a vedere di fronte. Dov'è che vanno adesso? Eh? Dov'è che vanno adesso? Ah, non lo so. solo riprendere il muso senza disturbare più che tanto 2 cavalli intanto c'è anche 2 cavalli questa è la Martini ragazzi vi saluto ci vediamo alla prossima guardatevi il film ciao ragazzi ma dov'è che girano adesso? per andare a vedere dove girano grazie